Allora, chi sono io? Te l'ho già spiegato al volo. Riassumo rapidamente, l'ho detto prima, bisogna essere concisi e rapidi, quindi adesso te lo riassumo. Imprenditore di successo di new media da oltre vent'anni, quindi editore di testate giornalistiche online, giornalista, influencer a mia volta, non ho milioni di follower, ma i miei canali social e le mie attività influencer hanno generato milioni di euro negli ultimi anni, certificati, cioè sono lì iscritti, manager dei più grandi influencer italiani da oltre 11 anni, ho lavorato con tutti, esperto di gestione di impresa, che è l'abilità che più vanto, perché è quella che mi permette di realizzare questo obiettivo qua, cioè mettere le persone al centro. Le mie imprese sono fatte non per farmi guadagnare un sacco di soldi a me, quello è, come dicono gli inglesi, un by product, un prodotto secondario che apprezzo, non dico che lo disprezzo, ma sono fatte per aiutare tutte le persone che ci lavorano a realizzare i propri sogni. Allora, ora sai perché puoi fidarti di me, oppure perché sono il più grande farabutto che tu abbia mai incontrato sulla tua strada? Ora parliamo di YouTube, hai già comprato il corso, quindi immagino che tu abbia già delle convinzioni riguardo a YouTube. Facciamo un riassunto comunque, perché è importante spiegarti, perché per me YouTube è la piattaforma principe. Ti faccio uno spoiler, nel mio corso influencer in 100 giorni, che secondo me, se non hai già fatto il tuo prossimo passo per ampliare gli orizzonti e crea una carriera super solida da influencer, professionista, io dico che ogni influencer, a mio parere, che si crea da zero, quindi che sta creando da zero una nuova attività professionale sui social, a mio parere deve prendere YouTube come punto di riferimento principale e poi affiancarli TikTok, Instagram, quello che vuoi, perfino Facebook che è morto, adesso si chiama multiverso, meta, meta come metaversi, bravo, bravo Mark Zuckerberg. Altri motivi buoni, perché dico questa cosa qui? Perfetto, uno, YouTube ha la monetizzazione diretta, che cosa vuol dire? Che se tu lavori su YouTube puoi direttamente ricevere dei dei nari dalla piattaforma stessa, direttamente o tramite un network come Tomos Network o Rainsign Management. E questa è una cosa fondamentale. Che cosa vuol dire? Che tu hai già una gratificazione immediata e nel tuo percorso formativo, nel tuo lavoro, nel tuo cammino per arrivare a un grande obiettivo, sarà importante avere degli obiettivi di passaggio. Infatti, adesso me lo segno come appunto, la gamification degli obiettivi è stata trattata molto bene da questo YouTuber in un video che ti mettono nelle risorse. Perché? Cosa spiega lui? Lui spiega che la vita va affrontata come un videogame. Allora, non so quanti di voi hanno giocato ai giochi di ruolo. I giochi di ruolo sono quegli specifici videogame in cui ci sono anche il modello cartaceo, quindi se non avete giocato né a uno né all'altro, vi spiego come funziona. Si interpretano degli eroi, degli eroi che hanno un grandissimo obiettivo. L'obiettivo è arrivare a sconfiggere magari un drago, liberare un regno da un malvagio, sconfiggere un super stregone malvagio. Però, cosa succede? All'inizio, quasi sempre c'è una scena in cui arriva il super cattivo, massacra tutti con la punta di un dito e tu sei lì buttato a terra, muori, sei stramazzato, fai una brutta fine, rimani con un filo di vita, ti riprendi e inizi un cammino. All'inizio non ce la fai, sconfiggere il cattivo. Immaginiamo che sconfiggere il drago per te è arrivare a 100.000 iscritti su YouTube. Caspita, se tieni a questo obiettivo e sei a zero, capisci che è molto complessa, ok? E allora, e allora devi crearti dei piccoli passaggi e ci lavoreremo assieme, dei piccoli, piccoli, piccoli achievement, come si dice nei videogiochi, ovvero delle piccole soddisfazioni, delle tappe intermedie che ti rilasciano un po' di dopamina. Adesso guardati il video e studiati queste cose in altre risorse, io non voglio prolungarmi. Nei giochi di ruolo, per esempio, sali di vello, scopri la spada più potente, scopri che puoi sconfiggere un mostro che prima ti riempie di botte. Quindi non passi da affrontare le galline a picchiare il drago e ammazzarlo con un colpo solo. E in più le sfide sono progressive, non sono mai troppo semplici ma neanche mai troppo difficili. All'inizio avrai dei mostri che ti impegnano ma puoi battere, però sai che se vai avanti troppo rapidamente o prendi la svolta sbagliata, arriva il mostro che ti fa fuori sistematicamente. Quindi cosa vuol dire questo in termini di YouTube? Non ti deve spaventare e la monetizzazione diretta può essere quella piccola scarica di dopamina che ti fa capire che stai sulla strada per fare una carriera professionista. Perché anche i primi 30 euro che ti arrivano, i primi 100 che forse è il limite minimo adesso, non so al senso a quanti euro ti paga il minimo, i primi 100 euro che ti arrivano tu li prendi e magari in metà li spendi per una piccola attrezzatura, un piccolo cavalletto e in metà vai a cena con il o la tua partner e ti fa una sera fuori. E quella è una cena, una pizza che ti sei guadagnato, guadagnata con la tua professione, con la tua nuova professione. E tutto parte così. Quindi la monetizzazione diretta che ha YouTube è molto importante. Instagram non ce l'ha, TikTok non ce l'ha. E quindi quelle piattaforme, per darti una prima soddisfazione, fatti sentire che stai facendo un'attività professionale, caspita ci mettono un bel po', devi iniziare a fare delle attività di collaborazione. È più complesso. Inoltre su YouTube i contenuti convertono molto, ovvero quando si mettono, si parla di determinati prodotti o servizi e si danno per esempio dei link da guardare in descrizione. Caspita, quei link funzionano perché il pubblico si fidelizza tanto, il pubblico su YouTube già sa che il proprio influencer di fiducia mette delle risorse, dei link da esplorare e che sono aziende e servizi consigliati. Cricca e compra. Funziona tanto. Ci sono influencer che hanno meno di 20.000 iscritti, che fanno migliaia di euro al mese solo con le affidazioni derivanti dal fatto che uno shop online, un e-commerce come potrebbe essere Amazon, che è il capofila di tutti questi, gli dà una speciale piattaforma con la quale generare dei link e quando qualcuno compra da questo link il sistema identifica che essendo arrivato il cliente da un tuo link a te dà una piccola percentuale sull'acquisto. Caspita, anche io che non faccio questo di lavoro, cioè non faccio l'info essere che consiglia prodotti, ogni mese da Amazon mi arriva un assegnetto da assegno, arrivano buoni acquisti, dai 30 ai 50 euro. È carino, è bello, è carino, simpatico, mi piace, è bello, ha una piccola soddisfazione. Non è che mi servono quelli perché la vita qui costa anche magari 15-18.000 euro al mese, ma è la soddisfazione. Ok? Poi i contenuti su YouTube persistono nel tempo. Questa è una cosa veramente eccezionale, è fantastica. Cosa vuol dire? Che ci sono contenuti anche sul mio canale, come quello della colazione tipica giapponese, la mia auto da 80.000 euro, una recensione che ho fatto di un accessorio per la Switch. Continuano a marciare visualizzazioni dopo anni, portano introiti dopo anni. Io ho dei YouTuber, per esempio, che pianificano la creazione di certi contenuti, anche se sono deboli, perché sanno che dopo un certo periodo di tempo l'argomento che loro trattano, che oggi è debole, magari una nicchia molto piccola, un domani torna in auge e quindi quel video torna a macinare. Faccio un esempio, aspirapolveri. I video di aspirapolveri magari in un momento storico preciso, quando esce il video, non li guarda nessuno. Poi arriva il Black Friday o il Prime Day, questi grandi eventi in cui Amazon sconta un sacco e magari l'aspirapolveri che hai trattato tu, scientificamente, perché magari è un Dyson top di gamma, quindi una marca che tu sai che fa spesso promozioni, va in promozione a un prezzo esagerato. Cosa fa la gente? Cerca il prodotto, trova il tuo canale perché tu sei l'unico che ha trattato quel prodotto e poi compra dal link del tuo canale e tu fai 50 euro per ogni acquisto. Tanta roba, vero? Questo con TikTok e Instagram non funziona. TikTok e Instagram sono piattaforme molto fatue, che vivono sul momento. Anche Twitch, la piattaforma di live stream e vive sul momento. Se tu non le alimenti in continuazione, sparisce e muori in un tempo così rapido che è quasi crudele. E quindi adesso sappiamo perché per te è importante YouTube.